eccomi qua buongiorno allora vi devo dare vi devo dare delle comunicazioni di servizio e di consigli a prima di tutto mi metto una felpa che c'è anche un po di freschino ecco qui gentilissimo gabriel grazie francesco bar allora allora la notizia ecodesta la notizia ecodesta ascoltatemi perché è importante è importante mi raccomando dal prossimo 4 aprile cioè da questo fra 15 giorni amazon prime passerà dal suo prezzo di 19.99 al prezzo di 36 ora non so perché 36 però saranno 36 euro all'anno ok è un aumento di quasi 50 per cento ce l'aspettavamo sapevamo che sarebbe arrivato e allora io ve lo comunico per tempo va bene 36 euro è così che comunque meno dei 70 della germania dei 50 della francia insomma siamo comunque a parte la spagna che l'ha iniziato adesso che è di nuovo ancora 19 il nostro servizio invece visto che sta aumentando hanno dovuto aumentare i prezzi 36 36 più del 50 per cento cioè del 2 hai ragione del 100 per cento sbagliato grazie riccardo quindi i consigli che vi do sono questi prima rinnovate lo stesso perché come avevamo detto più volte fino a 50 euro il prime vale il prime vale anche solo per la sub che fate qui come sapete la la sub quella che vi da amazon prime sono 6 euro al mese costa 6 euro al mese se noi facciamo un rapido calcolo qui con la calcolatrice non c'è trucco non c'è inganno facciamo 6 per 12 un anno di prime costa 72 euro vedi pagandone 3 fai meno 36 ne risparmiate 36 questo è un bel twist ah si mi ricordo wow grazie alla vasciuga questo è stato veramente un bel twist no ma infatti infatti 36 euro sono comunque onesti io lo dico magari per qualcuno che dice no adesso mi hanno aumentato troppo non voglio rinnovare a parte il fatto che faccio i miei interessi quindi rifattevi la sub però ricordiamoci che con 36 euro avete non solo le spedizioni di amazon il giorno dopo o gratuiti in generale che tutti dicono eh ma io ordino pochi pacchi eh ma già con 4 o 5 spedizioni te lo sei ripagato ah si mi ricordo poi avete la sub qui che abbiamo visto al valore di 72 euro annuali avete prime video per chi non lo sapesse c'è un canale cioè non un canale scusami una piattaforma come netflix con un sacco di film tra l'altro di questa cosa qui vi devo dire una cosa interessante ho parlato con lord come sapete ho parlato con lord perché mi manderà il twitchcon anche quest'anno e già che c'ero gli ho infilato dei discorsi interessanti gli ho fatto una proposta che ha ritenuto molto intelligente e molto interessante modestamente io sono il massimo esperto e allora mi ha fatto i complimenti non è una cazzata è vero non che sono massimo esperto ma che mi ha fatto i complimenti allora gli ho detto questo scusami ciccio ma perché io non posso fare una live only subprime e voi vi domanderete ma perché fare una live solamente per chi ha subprime perché fare una live solamente per chi usa amazon prime o ha amazon prime nel suo account volete sapere perché lo voglio fare lo voglio fare per il semplice motivo che se io faccio una live dove il 100% delle persone hanno amazon prime posso streamare un film e commentarlo con voi possiamo fare il filmone in diretta e guardarlo tutti assieme ok quindi adesso dobbiamo cioè l'idea gli è piaciuta molto ha detto che l'aveva proposta ai piani più alti io vi faccio sapere sicuramente interessante come cosa però dovete avere tutti amazon prime grazie tanto a super mario buongiorno gatto 5 mesi di noi quando mi porta a cena guarda devo ancora capire io come mi sono svegliato sono un po' storto nobel dai fatto lo accetto vedi gabriel è una bella idea ma infatti adesso premerò a ripeterla la ripeterò anche a re joffrey e andremo avanti così perchè è veramente una bella idea è una cosa interessante poter guardare i film basta semplicemente dare l'opzione perchè adesso mi pare che ci sia l'opzione fai vedere in hd solamente i subscriber che ovviamente non è attivo perchè è una stronzata però magari possono mettere la funzione fai vedere solamente a quelli che hanno amazon prime e gravi patti i sub adesso non è bene faccio così così ti costringo perchè non hai fatto la sub a me si comunque penso che sia solamente per i prime in generale non posso limitarla sia a prime che la sub con prime sennò non avrebbe senso primo poi questo è il consiglio che vi do intanto grazie mille a mr soul e anche a vernici mr soul non dice nulla però ha fatto 8 mesi grazie mille vernici invece dice visto che giustamente mia sorella mi ha fatto notare che non mi senti quando ti saluto a voce allora per dispetto rinnovo la sub buon bronzo è sempre meglio che rinculo va bene grazie mille prenderlo per mobile non c'è in italia ancora l'avrei scaricata che schifo curo lì di gravi patti comunque il consiglio è questo fino al 4 aprile voi potete farvi amazon prime se non l'avete ancora fatto fatelo potete risparmiare la metà ok da oggi al 4 aprile voglio vedere il 100% di tutti quelli che non hanno amazon prime farsi amazon prime così almeno per un anno in più hanno la sono coperti quindi quest'anno pagano 20 euro e poi si ne parla dell'aprile prossimo a pagarne 36 quindi fatevi tutti amazon prime grazie a god kill ahoi gatto e sono due ma se non fossi stupido sarebbero tre no sono dispiaciuto per la tua condizione però essendo due siamo ancora migliori di tre è voluta è voluta ciao robbie frelle frelle arriva subito intanto vi ricordo che io i subscriber do un video al mese e se lo monto il journey gamer in anteprima perché dovrebbe uscire domani il journey gamer ma magari domani faccio uscire qualcos'altro a sorpresa però dovrei registrare e montare tutto oggi quindi sarà divertente tra l'altro domenica inizio a registrare il weekly ho deciso faccio di domenica in domenica o di sabato in sabato sabato in sabato per adesso poi vediamo tanto mi do di più e poi vediamo sabato sabato è un bel giorno mi piace il sabato video del mese afficcato sono contento Arposottos vedi Arposottos è uno che fa le recensioni tanto io non c'ho voglia di giocare a kingdom com volevo giocare a coso lì alle barchette so che non volevo esagerare allora lo faccio stasera però volevo giocare alle barchette mi sono svegliato allora facciamo così io apro kingdom com e vi lascio nel menu mentre io gioco alle barchette va bene non è vero Rizlas è solamente una ortura di palle e lo so Jules però credo di aver fatto settimila ore ieri no Roby le barchette ne facciamo da te dopo no non posso non posso fare Sea of Thieves sia mattina che sera già però sono belle le barchette mercoledì niente Soros no no vabbè ma questa settimana è un po' particolare ho ancora voglia di barchette quindi stasera ci sarà la ciurma di barchette eh no Jules il problema è un altro delle barchette il problema delle barchette è che non so quanto ancora avrò voglia di giocare alle barchette quindi sto battendo il ferro finchè è caldo perchè è molto probabile che due settimane non duri eh si Jules è molto bello Sea of Thieves ma ha dei limiti abbastanza evidenti ma ne riparleremo ne riparleremo se vi va due settimane ottimista dice Gabriel eeeh forse un po' no no ma allora le live delle barchette sono molto divertenti Jules ma molto divertenti non posso dire nulla al riguardo infatti ieri c'era anche un sacco di gente ci si è divertiti un casino il problema è che dopo un po' dici cazzo non ho un vero scopo grazie a Psyco per lo scritto la donazione mi ha fornito per lo scritto la donazione mi ha fornito un 27 e mezzo quindi visto che oggi ho l'orale non posso far altro che donarle qualche soldino le si vuole sempre bene gattone grazie mille Psyco e rinnovo Amazon Prime no Jules non è la ripetitività che mi preoccupa DC of Thieves DC of Thieves mi preoccupa anzi trovo che sia un'idea del cazzo il fatto che come si dice l'obiettivo sia acquistare altre skin il gioco è bellissimo mi diverto un sacco mi piace fare quello che faccio farmo come la merda però non ho un vero e proprio avanzamento del personaggio non ho un miglioramento del mio PG non ho la possibilità di acquistare una nave più veloce o pistole più forti compro solo skin è quello che mi sta facendo passare l'hype per il resto il gioco mi piace un casino soppone no perché non è che spendi soldi veri non sento il gioco aspetta può fare così lo scopo di DC of Thieves è che non c'è scopo no lo scopo è vestirsi meglio ma a me non frega niente a me piacciono i vestiti da barbone che ho all'inizio no aspetta il pet devo usare eh allora per qualche motivo non si vede il gioco eccolo il motivo ok però non sento l'audio e il motivo di questa cosa qui non lo so ma non si vede neanche il gioco da voi io non so va bene aspetta proviamo a uscire e rientrare allora intanto sistemiamo questa faccenda dell'audio oh oh no che palle aspetta aspetta cazzo e non lo sentite basta basta un po' volete sapere cosa è successo? è semplice è semplice è molto molto semplice la situazione qui se sono aggiornati i driver in media ok disattiva 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 perdonatemi oh ogni volta ogni volta la cambiamo Isa la cambiamo la canzone del prime ogni volta che si aggiorna qua bordello che due palle ancora non si vede il gioco questo qui è un twist non so perché non so perché non si vede ok adesso si vede e per qualche motivo a me è sconosciuto non vedo i simboli di shadow play io non so più non so più a chi mi devo rivolgere non so boh boh peggio dei ragionamenti video ci sono solo quelli per windows e purtroppo è così boh a proposito del video di kingdom.com sono molto contento di come è andato sono contento soprattutto delle reazioni pochi insulti cancellati naturalmente e delle discussioni ben ponderate penso sono contento alcuni mi hanno detto che non accetto le idee altrui ma non mi pare di essere stato aggressivo nel video ho detto la mia idea e ho detto che purtroppo in internet è difficile esprimere la propria opinione non volevo assolutamente attaccare nessuno o altro io ho detto la mia fine ho detto ad alcuni che magari il gioco che amano non è il gioco perfetto può capitare non mi sembra di aver fatto dei commenti fuori luogo alcuni però me l'hanno scritto quindi mi dispiace che l'abbiano preso in questo modo non era mia intenzione chiaramente ludi lunedì ultimo esame mi porti fortuna a lei che l'ho già bocciato una volta grazie di farmi compagnia buon medioevo a lei a lei grazie mille tanti auguri chiaramente ok devo caccare è segnato dal gruffolare di una bestia ma gruffolare ma parla bene slow and quiet watch out watch out va bene watch out mi piacerebbe stordirlo e uccidergli la famiglia abbiamo seguito Hans guarda il cane che dorme vabbè è un cinghiale mi aspettavo una tigre del bengala non lo farai mai perché è un cinghiale e e neanche con lo schioppolo tiri giù facile qua finisci a merda eh sì ah ecco ah ecco faremo un po' strano e io guarda che muore muore come re robert poi oh eh no l'ho perso eh sì dove geniale come fallito eh grazie al cazzo dove sono beh eh Demetriobar grazie salve gatto grazie per tenermi compagnia se ricordi che due è sempre minore di tre giusto giusto gentilissimo ma scusami giusto come avrei dovuto trovarlo perché sono un mago di qua mi dice la mappa mi dice un'area non l'avrei mai trovato devi chiamarlo signor maiale giusto ah dio mio ho sbagliato voglio saltare io ti dico che se non non scrivi quella frase lì nessuno è Jules è dovete sapere che gli spoiler sono molto è basta non fare riferimenti per davvero non sapete niente dov'è dov'è questo stronzo mi scusi quell'uomo non vedo niente non vedo bello stronghold mamma mia e dove lo trovo sto cinghia ho scoperto la caccia al cervo ho visto un cervo ah potrei cacciarlo ho scoperto la caccia al cervo dov'è dov'è sta situazione dov'è dov'è si è spento il pen se ho bisogno chiedi ma dici che potrei aver bisogno e non lo so io per lustro l'area ho perdito anche una bella musica fammi vedere un po' capol di sbarazzino grazie mille eccolo no non è lui è un pellegrino ciao ci sembra un po' male quando succedono queste cose ve lo accetto eh non mi dà fastidio mi dà fastidio quando lo dicono il gioco della vita è il migliore è il più bello il realismo l'immedesimazione non ci puoi giocare solo per dieci minuti ci devi giocare un intero pomeriggio per godertelo perché altrimenti ti perdi l'immersione insomma intanto vorrei parlare anche un po' di questa immersione di cui parlano tutti ho sentito abbaiare forse sarà di qua aspetta tutti parlano di immersione di un gioco per me l'immersione in un gioco significa che il gioco ti prende talmente tanto che neanche ti rendi più conto di esserci dentro però qui la cosa dura dieci minuti da quant'è che si è minato un quarto d'ora toh abbiamo iniziato a giocare da dieci e già è successa una cosa che non stava né in cielo né in terra quindi abbiamo fatto una mail no un sms aspettate lo devo dire lo devo dire un sms stai cercando una palestra solo xt entro il 31 marzo un mese all'inclusivo a 30 euro prima prova la qualità e poi decidi un sms hai ragione Gabriel ma infatti io non sono alla ricerca dell'immersione completa il mio era un discorso più in generale ci sta ovviamente che per l'immersione uno deve giocare non deve parlare deve sentire l'audio quella è l'immersione però quello che è successo il tipo che mi è venuto addosso non è successo perché ero in live è successo perché il gioco che è così perché è un gioco e neanche fatto in maniera perfetta quindi somma somma io non so poi lo streaming è sicuramente la cosa che meno ti fa immedesimare però il gioco mi piace ripeto me lo sto godendo il live mi piace farlo con voi chiacchierare e farmi aiutare io sto perlustrando tutto sono a bordo? si che bravo che sono no che poi non ho mai detto che è un gioco di merda anzi ci sono delle stronzate ma per me l'errore l'errore è chi dice che è un capolavoro ma è un errore anche chi dice che è una merda è bello guarda qui che belle queste foglioline non sto guardando il pelo nell'uovo aspetta che sono uscito dal seminario così tanto sono uscito cazzo che bella sta missione insomma insomma me ne è sembrato di sentire i cani aspetta qui c'è una situazione no no eh beh ho sentito i cani sarà lì dritto di qua no eh mi si è dispiento il pedo no non è vero si era un po' più incastrato io non so se sto facendo bene a fischiare però è una bella idea giusto dimmi solo questo ti prego ho fatto bene a seguire i cani cioè l'errore è stato presentato come un gioco più realistico della vita sicuramente ma infatti ma ma ci sta che ci abbiano presentato un gioco in maniera stupida o per vendere più coppia ma ci sta va bene sono anche sicuro che il loro scopo fosse far la vita eh no fare la vita vera ci sta va bene ma ma quando uno sviluppatore ti dice quelle cose lì vabbè ti fidi fino a una certa se poi dopo eh il gioco non è così non è che dici inizia a giustificare qualunque cosa se apri la mappa ti posso dire la zona io non ho seguito i cani eh vabbè eh no aspetta vabbè dimmi dimmi per cortesia a sto punto devo cancellare questo posso togliere il luogo ah no è il luogo di interesse quello lì non è un indicatore ti è ah questo mamma mia che brutto l'indicatore prego è come Ubisoft che vende Far Cry 5 come se fosse un gioco nuovo esatto è stato finanziato su delle bugie eh più o meno l'unica bugia grossa che vedo è che ti dicono tu puoi fare quello che vuoi invece il gioco è su binari però per il resto nella parte in alto a sinistra di quella zona gialla quindi qui mi dici tra l'altro non so se l'avete notato sicuramente i grafici o chi ha un Mac se ne rende conto questa forma qui è la stessa sagoma della calibrazione del bianco dei monitor che usa l'Apple ma anche la calibrazione quella dei colori poi devi calibrare il bianco se lo c'è vero? no non è il simbolino col cervo e come l'hai trovato tu Jules per curiosità bugie più piccole di No Man's Sky sì ma peggio delle bugie forse c'è quello di Sea of Thieves Sea of Thieves ti promette un mondo però non ti dicono effettivamente cosa puoi fare Sea of Thieves per me è stato un problema aspetta scusami che pensi mi? scusami che situazione? che cazzo? a lei è famiglia aia aia guarda che sono bravissimo eh ce ne sono otto però oh Bonnie che situazione delle palle oh tiè suca merdone mamma mia come sono powers aia che pugna guardate questi craibici non mi tolgono niente però ecco vedi questo questo è calibrare la difficoltà in una certa maniera loro non mi tolgono tantissimo quindi per me è fattibile la cosa sono forti però io ce la posso fare non mi stanno impedendo di combattere in questo duello e mi sento cioè nonostante siano in due è difficile per carità però me la sto cavando oh finalmente un combattimento calibrato come dio comanda eh adesso so stronzo io venga un po' più distante perché quello lì mi tira le frecce mi dà fastidio attacca eh dai dopo mezz'ora ma fa il culo guarda che l'ha preso con l'altro mi metto in mezzo ma quindi colpisce lui se io sto dietro durante il tiro della freccia me gusta così a tarantella lei ahia che non l'ho parato twistone ah bastardo eh bravissimo e cazzi ah yes è doppio no bravo questo che con lo scuro ne sa eh cazzi ahia però ti pungo il culo ahahahah e invece muori merda ahia che dolores scappa vabbè scappa ah fortuna che me l'ha ucciso quell'altro l'immedesimazione il realismo c'era un coniglio che stava correndo contro una roccia però vabbè mi sono divertito è stato divertente vedi questo deve fare un gioco sono contento allora mi mangio una minestrina e sono da lei oh no ho fatto il porcello slega da qui vabbè slego fanno i grossi e poi fuggono ma non erano in tre sembravano tre non so perché avevo questa sensazione massiva Vaffanculo Dai facciamo amicizia Eeeh E io te Saffagato A me ma io non so niente Banditi A me sembravano dei saraceni quelli lì A catturare un coso con una freccia Coglione di merda Vabbè mi ha riportato a casa il gioco Quanti quanti Adesso ne arriva un quarto ce lo abbracciamo Erano i cumani Per me erano saraceni va bene Gli ho visto il grano tra i denti Scusa Lorenzo Eeeh mamma mia Questa emozione qua L'arco si è imparato ad usare E' abbastanza OP Eeeh quello è il problema Miraculo Però vedete Questo combattimento qui Per quanto sia finito a merda Non mi è dispiaciuto Perché Io perdevo poca vita I nemici ne perdevano il giusto E il combattimento andava Non è stato semplice Ma neanche così difficile Eccolo Massimo esperto Come Che risatta del cazzo Eeeh 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 Va bene Alla nostra E che cazzo Dai Ma che cazzo di giornata Guarda Curva a lei Non è morto Smil Cazzo è Smil I saraceni E' quel che ha mai inculato la spada L'ha intuito Henry Perché è intelligente 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 Henry Grazie friend Sir Let me ride with them È full of piss and vinegar Isn't he Il leader Il must be the one Who attacked me at Scarlet There can't be two men In the whole kingdom Who look like that You think he might still have my sword No doubt you could use another swordsman Captain As you command my lord As you command my lord Soon as the men are ready sir Good Wait in the courtyard for Henry And Give him a horse Addirittura Wow Wow Mi danno il Ferrari Dai 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 No Sammi che ne sono d'accordo Sulle gilde si Il sistema di gilde E' una grossa mancanza Sea of Thieves Però secondo me Ci dovrebbe essere anche Un upgrade del personaggio Cioè io faccio questo Per diventare più forte Non faccio questo Per vestirmi meglio Quello Quello non mi sta piacendo Ma infatti lo devo registrare Assolutamente a breve Prima di rompermi i coglioni Tanto il tuo primo cavallo Fa cagarissimo Quanto carica Pronto Voi non vedete il caricamento Ma è qua E Non sta avanzando Di solito si riempie Questa cosa E niente Scusa Dove sono? Ah Salve Giorno Però a me manca un po' di stamina Non so perché Ah perché sono un porcellino Vabbè Mi scusi Bernardo Ah niente Bernardo Facciamo di sì Yes Va bene Dipensimi Questo qui Ok Grazie Nick Vai Chi parte E scusami Com'è possibile Mi perdoni E dai Aiuto Che incastro Guida Resto cesso Ok Che bello Guarda che bello Che bello Sono girato così Mi scusi Mi scusi Oh mamma mia Aspetta che arrivo Merda E che così Li supero Permesso È un cavallo Come quello Shadow The Colossus No È molto meglio È molto meglio Beh Stronzo Stronzo Chi si attacca dietro Giusto Però dopo un po' Smette di andare Guarda Arrow Arrow Non è un problema Di tutti i giochi Sai Guio Infatti un sacco Di titoli Ti permettono Di agganciarti Dietro E stare fermo Mi pare Potessi Farlo In Red Dead Redemption Mi pare Che in Red Dead Redemption Ci fosse Quella opzione Lì In World of Warcraft Anche se non seguo Gli NPC In World of Warcraft Però c'è l'aggancio Poi Insomma Ci sono i giochi Che ti permettono L'aggancio C'è stato un sorpasso lì Il simbolo del maiale A fianco alla barra della vita Mi dice che ho mangiato troppo E quindi sono un po' più Tanto c'è in Red Dead Redemption Ma non c'è in GTA E quindi è un casino Soprattutto quando devi leggere i sottotitoli Questa cosa è molto utile No Duzi Non lo trovo così interessante Cioè Allora Interessante sì Mi sono spiegato male Non lo trovo così montabile Troppi dialoghi Verrebbe una merda Verrebbe veramente una merda Sono giochi che funzionano bene in live Questi Perché c'è tanto dialogo Io parlo tanto Da montare questo video Verrebbe un macello No no infatti non c'è l'aggancio al personaggio Ma non l'ho detto Non l'ho mai detto questo Ho detto che sarebbe comodo averlo Grazie Franco Buongiorno gatto Un saluto anche da mia moglie E il piccolo Gabriele Ciao a tutta la famiglia E grazie Qua finisce In imboscata durissima Adesso gli alza la testa Ed è un teschio Lo guarda negli occhi C'è il fuoco dell'inferno Ah non è vero E' solo sconsolato e triste Perché arriva a quello vero Con lo sfaccia tutta rotta Ed è un mostro I denti da ragno Eccolo No sono semplicemente morti C'è una signora lì Sotto al cavalli morti E' un pelato Mezzo pelato Mi dica signorina Lei ha recitato molto bene In Star Wars Non sembra proprio Oh che stronzi L'ha detto a me L'ha detto Perché sono stronzi Molto bene Molto bene Giusto Gesto La parola che cercate è gesto Quando c'è più ...d'acquitt...do...this? Pocs... ...Mount up in quarter of the area. We have to find out where they went. Look for tracks, and ask the folk if they saw anyone. Fuck! Someone must have at least caught sight of them. Yes, sir! Yes, sir! What the hell are you? You stay here. Let me do something. I could have a look around the area and see if they left any tracks. Dai, oh! Dai, fammi fare qualcosa. Dai, oh! Just don't get in anyone's way. Don't go too far and come back here when you're done. Faremo tutto questo. Signorina, non tocchi le prove che ora arriva la scientifica. ... ... ... ... ... Harry Mason! Porca vaca! Harry Mason! A fa' il culo, wezze! ... Il caricamento, ancora una volta, non sta facendo il suo lavoro. Quindi ci dovrebbe essere questo colore rosso che scende e entra tutto da una parte all'altra qui del boschetto della fantasia. Però non sta accadendo. Quindi, che succede? Mi si è rotto il caricamento? Beh! E gira, e gira, e gira, e gira, e gira. Oh, santo cielo! Oh! ... ... ... ... Cazzo, per davvero? ... 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 Ah già l'avevo detto Mi lavo altro ogolo io Non c'è acqua Ma che sfighe Che poi me lo segna con opzione B Perché? Allora Interrogate Superstiti Ah è setaccia l'aria Signora Ask Ask Sì signora Raccontami un po' di questo attacco che è successo Com'è andata? Com'è andata? Mi dica, mi dica Dov'era lei? Alle 4 del mattino Sì Succede spesso Questa situazione degli ubriachi Ah vedi vedi Non questa volta Certo Mannaggia a Smil Mh 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 Bene Per caso tra i loro c'è un uomo grosso vestito di nero Lei è proprio una rompicoglione Le voci qualcosa Conosce qualcuno L'avrebbe detto prima eh E beh giustamente Parlavano cieco Quindi non solo parlavano male Ma non ci vedevano nemmeno Beh nel buio Ah ah Quindi c'è stata una lite A chi chiedo? A chi chiedo? Dica dica Ginger Allora Ginger dormiva nella stalla E Mark è stato primo a svegliarsi Va bene Tra l'altro Vorrei sapere Vorrei sapere Hanno dato fuoco Hanno detto Alle stalle A me non pare Oh mi sono perso io Cioè Sbaglio o prima hanno detto Che vi hanno dato fuoco a tutto Che è questo qua? Mi scusi lei Non deve lasciare l'area Oh 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 Eh qua c'è uno morto Vabbè Lo presidi Ma non sono queste le stalle? Ah Dove sono le stalle allora? No Di qua si esce Si sa che il fuoco attraversa le pareti Per questo non lo vedo giustamente Eh sto indagando Allora che Questo è il favoloso Ginger No è Jakub Vabbè non importa Domandiamo Jakub Ascolta intanto ti calmi Testa di cazzo Eh Mostratemi il braccio Ma me faccia il piacere Lo posso uccidere? Ma quindi lui ha visto e c'era Che idea del cazzo Eh certo Coglione Dammi il mantello Aiutatemi Vai Ha rotto i coglioni questo qui Spacco la faccia Guarda Jakub Dei miei coglioni Bene Eh Chi mi Con chi parlo qua? Aspetta Posso entrare? Apri Sì Sì Sottotitoli Non rispecchiano esattamente Il parlare Ma perché Aspetta Questo è chiuso chiave Ma Oh Qui c'è l'acqua Ma mi No Non mi fa Perché sarebbe poco elegante Davanti a tutti i morti Perché Perché gli inglesi di merda Non hanno Il parlare Aulico Parlano Parlano E basta Perché sono dei Culi Piccialo Muore Porca macchina Mi sembrano proprio Delle stalle Queste Comunque Sa che non sono Le stalle Ma a me Sembrano proprio Delle stalle Allora Allora Quello io ho parlato Con lui Non devo parlare Con lui nemmeno Fammi vedere un po' di qui Qui non c'è Nessuno Qui c'è un cane Interrogo il cane Oh Qui c'è la bella lavanderina Salve Oh Pronto Come siete No Volevo parlare con la signorina Com'è Come va Bel ritratto Molto brava Complimenti C'è paura No Ho capito Con lei Con lei Non si può parlare Ancora Mi ha urlato Fortissimo Qualche uso Ancora Gabriel Ci appoggi il pene Per caso sopra Una dormita Ma che twist Tutto porta Alle stalle Che non sono stalle Che non sono state bruciate Non voglio rubare Volevo parlare Ma scusami Ma Jules Sono stupido Io O non c'è un cane Sono anche uscito Dalla zona D'indagine E Interroghi Superstiti E averne trovati Di più Ho fatti due Interroghi Il morto Esamina E sempre Gli stessi commenti Delle balle Fin dove si estende L'area di ricerca C'è un altro morto Qua Che twister Oh Ah ecco le altre stalle Edì C'erano altre stalle No no Ma infatti Giusto Stavo cercando bene Queste sono le stalle bruciate L'hanno bruciato Solo quelle centrali Ma chi se ne frega Dai Posso lavarmi Oh c'era C'era uno lì Che camminava Oh Qui c'è un po' di gente Una freccia La posso raccogliere? No Peccato Non posso parlare Con la signorina Posso calpestare Il cadavere Della sua azienda Non posso parlare Con lui Qui c'è un cavallo morto Lo esamino No Stesso dialogo Scusami Non posso parlare Con lui Oh Abitante del villaggio Eh sì Farò Del mio meglio Ancora Basta Aspetta Aspetta Questo qui sicuramente È Jacob Era Ginger Perdonami Mi ero dimenticato Si è ferito? Tutto a posto? A parte i capelli rossi Del diaulo Va bene Sì però Sono domande Del cazzo Queste Ho capito Adesso Che cosa è successo Mi dice che hanno ammazzato I cavalli Neanche Oh cazzo Non mi dire Dovevo fare Tutte le domande A tutti Aspetta Fammi provare Di nuovo Con la vedova No perché Se è così È veramente Stupido Io Io giuro Spero Non sia così Perché se no È veramente Una puttanata Anche perché Le domande Che puoi fare Sono Stupide Le domande Che puoi fare Perché Sei già Sei già tutto Cioè il contesto Ti è già stato detto Ah ok Jules Adesso torno indietro Mi stavano delle prove Schiaccianti No ok ok Mi fido di Jules Che ne sa Pacchi Uh signorina La devo interrogare Venga 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 Non se ne va Ah non posso Vabbè C'è qualcuno qui dentro Che posso interrogare Mark Emmyl Per caso Ma sì Ma non rompere le balle Molto facile Molto facile Allora con un gingerino Abbiamo parlato Qui non ho visto nessuno Che cazzo Il realismo Un'immedesimazione Qui in faccia Proprio Che cazzo andate a caccare un gioco da 9 di sto cazzo a me va bene questa cosa qui non mi da fastidio perché è gameplay però voglio proprio vedere come me lo dovresti giustificare nel realismo di sto cazzo mi scusi dov'è il suo amico? c'è una corda la tiro? no meglio non tirare la corda dopo un po' si spezza ero io? e qui dentro non ho ah c'è uno seduto qui che non avevo visto eccolo è Mark è Mark ok troverò quei bastardi yes ha tutto qui? ma perché? lo sappiamo cos'è successo eh tutte cose che ci avevano già detto comunque come si è successo si? si? no gli animali li hanno uccisi loro dopo stai attento Henry si? ok ma gli animali non sono morti per primi gli animali li hanno uccisi loro perché soffrivano ma questo qui è stupido toffa questa domanda non sono morti per primi non è l'altra anna non sono morti per prima non sono morti non sono morti non sono morti tu ti diceva che eravano nemoni? no solo vermine aspetta 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 che questo qui ne sa ne sa ci fa capire le cose oh finalmente intanto non capisce perché era cieco va bene a posto va bene di qua no? perfetto ma così me le lascia aperte quelle missioni lì, io non ho finito qualcosa il mistero continua ok siamo in zona C e che cosa vedo? bellina questa cosa dell'esplorazione delle scoperte sono uscito aspetta ok vedo niente di particolare è stato ginger col candelabro nelle stalle bruciate quelle centrali però e giusto abbiamo tre minuti a sto punto mi potrei anche fermare e vi mando da quegli stronzi dei termosifoni grazie a Omar 3 punte 3 punte ho trovato Arnia formulo già accusi scusami non formali ovviamente qui c'è una sasaiola non c'entra niente dai andiamo avanti alla prossima allora questo mistero si infittisce salva i desci salva i desci qui dove sono non tornare in un letto per poi tornare qui e si risparmia tempo si gioca di più ci si diverte ci si immedesima con sto cazzo guardate guarda che bello stiracchiarsi la mattina vado a portare fuori il cane io allora ride i termosifoni e gli scriviamo cosa gli scriviamo gli scriviamo il mistero continua va bene scriviamo il mistero continua grazie a tutti ragazzi noi ci vediamo questa sera buona giornata buon divertimento e buon mercoledì che è il bat day vedrete delle belle foto ciao